Buongiorno a tutti, questa giornata di 14 settembre 2018 è all'insegna dello sport internazionale senza barriere. Oggi vivremo insieme un percorso incredibile in cui Piacenza, grazie alla disponibilità del comune, della scuola di polizia, di tante realtà e società sportive del territorio, offre un'occasione incredibile ai ragazzi che stanno partecipando al progetto Erasmus+, Friendship Through Art and Sports, amicizia attraverso le arti e lo sport. Oggi quindi avremmo modo di condividere l'amicizia attraverso le passioni, il divertimento. 14 sport ci accompagneranno in questo viaggio, sentite ancora la musica dell'inaugurazione di questa giornata internazionale. 14 sport come i tornei di basket integrato, calcetto integrato, patinaggio artistico a rotelle, grazie alla società sportiva Lepis metterà a disposizione la pista, i suoi istruttori, così come gli istruttori del CIP, del Comitato Paralimpico, del CSI, così come le società Dream Team di calcetto e basket integrato, Acquarello di calcetto e basket integrato, i Pirati del Gossolengo di calcetto integrato, la SD a sofa di basket e calcetto integrato. Avremmo poi il maestro Penna con il Judo, arti marziali, il Quanchido, danza sportiva con Marta Consonni, ginnastica dolce con alcuni, ginnastica dolce con i tecnici della sportabile di Andrea Alborghetti. Avremmo poi handbike e tandem, quindi avranno modo i ragazzi attraverso i tecnici appunto di vivere questa esperienza anche di avviamento al ciclismo, grazie anche a Giordano che è un grande sportivo, ci insegnerà, avremo modo di capire come funziona l'handbike e di sperimentare questa bellissima modalità di andare in pista ciclabile.